Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico tra la Roma di Juric e l'Atletic Bilbao di Valverde in tempo reale. La Roma ospita l'Atletic Bilbao nella capitale in una gara valida per la prima giornata della nuova edizione della Europa League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono ad arrivare fino in fondo alla competizione, nonostante fossero inserite rispettivamente nella prima e nella quarta fascia nei sorteggi, che sarà diretta dall'arbitro bulgaro Kabeikov. Da un lato i giallorossi di Ivan Juric, alla sua prima panchina europea dopo l'esordio vincente in campionato di domenica scorsa contro l'Udinese che li ha fatti risalire al nono posto in classifica in Serie A, vogliono partire con il piede giusto per mettersi alle spalle la crisi dell'era dei rossi e provare ad agguantare uno dei primi otto posti della classifica generale che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai play-off. Dall'altra parte i biancorossi di Ernesto Valverde, che a loro volta hanno una striscia di tre successi di fila contro Celta Vigo, Leganes e Las Palmas che li hanno proiettati in terza posizione nella Liga Spagnola, vanno a caccia dei primi tre punti per candidarsi ad essere la sorpresa della manifestazione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su tablet, smartphone e PC sull'app di Now. L'unico precedente tra queste due squadre è una amichevole dell'estate di cinque anni fa, la gara finì in parità con il punteggio di 2-2 grazie ai gol di Munian e Raul Garcia per i baschi e di Colarove Lorenzo Pellegrini per i capitolini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio olimpico tra Roma e Athletic Bilbao Live in tempo reale. Informazioni ufficiali Roma Athletic Bilbao.Roma, 3421, Svilar, Mancini, Ndica, Hermoso, Celic, Cone, Cristante, Baldanzi, Angelino, El Sharawi, Di Bala, Dovbic, All. Iuric.Atletic Bilbao, 4231, Agire Zabala, Gurusabel, Vivian, Paredes, Berchiche, Prados, Ruiz De Galarretta, Iñaki Williams, Gomez, Alvaro Gialò, Guruseta, All. Valverde.Arbitro, Kabarov, Bull. La classifica del girone, Lazio 3 punti, Galatasaray, Slavia Praga, Azalkmar, Bodo, Glib, Anderlecht, Offeney Mono, Real Sociedad, Tuente, Manchester United, Midtjylland, Nizza, 0 Ajax, Athletic Club, Besiktas, Braga, Steaua Bucarest, Fenerbahce, Eintracht Francoforte, Lione, Maccabie Tel Aviv, Malmo, Oimpiacos, Carabag, Glasgow Rangers, RFS Riga, Roma, Tottenham, Union Assange Loise, Victoria Plsene, Elfsburg, Porto, Ferenc Varos, Pauk, Ludogorz, Dinamo Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada